Avanza Arx, Caligiuri, Claudio Stewart La rispinta di Gaviria Sbaglia anche a Spriglia, tanti errori da parte dei giocatori a turno sia a Spriglia sia a Rincon Lo stop di Arx Intanto si sovrappone, non riceve Caligiuri Tiro di Arx, deviazione autogol Incredibile condanna per la Colombia l'autorete di Escobar E' stato il difensore centrale della formazione colombiana a depositare il pallone in rete Un vero e proprio colpo di sfortuna per la Colombia Ripetiamo questo episodio alla 34esimo minuto del primo tempo E' ovvio che una partita nella partita è quella che si sta svolgendo sulle gradinate Erano rimasti abbastanza in silenzio tutto sommato i tifosi statunitensi Soltanto adesso ci rendiamo conto che sono, come logico, in stragrande maggioranza rispetto ai colombiani Stadio gremito dalla bellezza di 102.000 spettatori Possiamo dire che almeno tre quarti sono spettatori statunitensi Ma molto rumoroso il quarto colombiano Adesso è veramente crisi per la formazione di Maturana Che con la sconfitta va incontro all'eliminazione Non si tratta di matematica perché i tre punti possono cambiare tutto Ma stiamo a vedere Grazie a tutti